Lasciate che vi racconti una storia, un viaggio di oltre 90 anni nella produzione di macchine da caffè. Non importa che il caffè sia il nostro lavoro, la nostra passione o semplicemente un momento per noi stessi. È tempo di andare avanti e di immaginare il futuro che vogliamo creare. Una nuova pagina da scrivere tutti assieme. La nostra azienda trae forza dalle radici di un grande passato, affrontando giorno per giorno nuove sfide. Siamo esploratori che soltano mari ignoti e artigiani che forgiano il metallo con grazia ed eleganza. Siamo tecnici meticolosi e designer innamorati del gusto. Siamo la forza dirompente del vapore e la delicatezza effimera dell'acqua che scorre. Siamo il ritmo frenetico di una caffetteria affollata e la leggerezza dell'ultima goccia che si tuffa in una tazzina. Siamo in eterno equilibrio tra tradizione ed innovazione. tecnica ed estro. La sostenibilità, l'innovazione e l'immaginazione sono le nostre compagne di viaggio. Siamo un unico organismo che respira a tempo con la natura. Siamo migliaia di amanti del caffè in tutto il mondo. È tempo per nuove prospettive e per nuove avventure. Noi siamo pronti. Il nostro futuro è qui. sottotitoli tutta la stabbedyncia.